Slot machine modificate e prive di collegamento alla rete telematica per evadere le imposte previste sui giochi da intrattenimento, oltre che ingannare i giocatori, fruitori inconsapevoli di apparecchi offline. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito sei misure cautelari personali che hanno imposto il divieto di dimora nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle province di Napoli e Salerno responsabili di una truffa perpetrata ai danni dello Stato e vase imposte per oltre 4 milioni di euro. L'operazione denominata Joker trae origine da un'attività di controllo nel corso della quale i militari della Compagnia di Cava dei Tirreni sono venuti a conoscenza della circostanza che all'interno di un bar erano installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Il mancato collegamento alla rete di fatto precludeva il calcolo del prerievo erariale unico, così come anche i controlli sulla corretta gestione delle vincite da elargire ai giocatori ai quali ignari non venivano garantite le percentuali previste. Nel corso del controllo la titolare dell'esercizio commerciale, allarmata dalla presenza dei finanzieri, tramite un apposito telecomando, ha spento immediatamente le slot machine illegalmente detenute nel retro bottega, le quali tra l'altro erano anche dotate di un nulla osta di messa in esercizio falsi. Le successive indagini, compiute con attività di intercettazione, così come disposto dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare due garage nel comune di Nocera Inferiore adibiti al laboratorio, dove quotidianamente i responsabili manumettevano le schede informatiche e i slot machine dismesse al fine di alterarne il funzionamento. I finanzieri hanno scoperto che le macchine venivano installate presso diversi esercizi commerciali nelle province di Napoli e Salerno, con la compiacenza dei gestori che garantivano la propria disponibilità dietro compenso, attinto dalle somme accumulate dalle macchine in accordo con i fornitori. All'esito delle operazioni condotte dai finanzieri sono stati sequestrati 20 apparecchi offline, correlativi nulla osta di messi in esercizio falsi, 65 apparecchi da intrattenimento convincita in denaro manumessi, 236 schede da gioco e 61 nulla osta di messi in esercizio. È stato accertato un mancato versamento del prelievo erariale unico per oltre 4 milioni di euro, calcolato dai monopoli che hanno applicato le aliquote previste per legge su un imponibile forfettario giornaliero di 3.000 euro per 365 giorni di presunto esercizio di ogni congegno rinvenuto.